Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Oggi è gentile recensibile Una collezione che sarebbe già Happy Game o schiatture alate Se volete comprarli questa è la bustina Vi faccio vedere il libretto di questa collezione Ci sono 3 che cambiano coloro in acqua calda E questo è uno di quelli 3 che stiano a buio E 2 glitter Adesso vi faccio vedere tutto Ecco tutta la collezione Direte che vi trovo un pieno Speciale perchè sarebbe L'unico mammifero della collezione Esatto perchè questi sono tutti buoni Ecco qui La collezione si Ecco Maxi Questo è il pappagallo E' giallo pure dentro La mia roba Ho trovato Il condor delle alle Non è così perchè questo sarebbe Il condor della califobia Ma non fa niente Allora questo è il polvo gigante Del Pacifico Questa bustina del Daxi E' il Comaxi Continuiamo Allora questo è il minicotter Eccolo qui E combattere contro il grande squalo bianco E questo è lì vicino Con leggi e vai Faccio tutte le specie Magine Anche i giochetti Ecco leggi E vai pure quella lì Altre Ecco tutta la collezione Ecco qui Poi le soluzioni Questo qui Si dice che Questi sono cranci Ma sentite Cranci Bene Ora Vediamo il fatto che C'è il pappagallo Arrazzallo blu Ecco qui Ecco Ecco Se vedete bene Le ali In blu Diventano gialle Le parti blu Diventano gialle E visto che questo è del mare E' giusto mettere l'acqua Ricordate che Tutti e due costrano 3,50 euro E che questa è nuovissima Perchè della diagostini Inversiamo l'acqua con l'acqua fietta E ritorna nel suo colore originale Da dire nel suo blu originale Da dire nel suo blu originale Da dire nel suo blu originale Blu Rossa Bianco Blu Giallo Blu Giallo E quindi ora ci vediamo Ciao